Fervono gli ultimi preparativi per passaggi festival, la manifestazione dedicata alla saggistica che torna a Fano da domani mattina. Fino al 25 giugno la nona edizione invaderà la città adriatica con otto giorni di eventi tra presentazioni librarie, mostre d'arte, laboratori per bambini e visite guidate al mare e in centro storico. I primi due incontri della giornata inizieranno alle 9.30. Il primo con Lucio Zanca, Welcome to the Jungle, un libro che parla del mondo del lavoro e dei giovani che entrano nel mondo del lavoro, intervistato da Silvia Sinibaldi, a Lido, al Bonbon e a Bagni Torrette, Giada Palma che presenta il suo Donne che innovano, intervistata da Brigida Gasparelli. Ma gli appuntamenti, come racconta il direttore del festival Giovanni Belfiori, proseguiranno fino a tardasera. Segnalo subito l'inaugurazione delle mostre d'arte, l'appuntamento alla Mediateca Montanari con Paola Gennari, la nostra art manager, ma ci sono tanti altri appuntamenti, per esempio proprio la Mediateca dove si inaugurerà la mostra, però è anche il luogo d'eccellenza per i bambini. Laboratorio e presentazioni librarie, laboratorio anche ai Giardini Leopardi dalle ore 17 e alle ore 18 alla Chiesa di San Francesco, quindi ci spostiamo di pochi metri dalla Mediateca alla Chiesa di San Francesco, parte la rassegna Passaggi di Benessere, il primo appuntamento con Pierluigi Rossi. Alle 18 e 30 poi, sempre alla Mimo, è in programma un incontro sulla filosofia per bambini con Alba Sala e l'esperta Ippolita Bonci del Bene, mentre alle 19 nella Chiesa di San Francesco appuntamento con il filosofo Leonardo Caffo, intervistato dalla critica letteraria Carolina Iacucci. Alle 19 e 30 al Pincio è un grande avvenimento atteso da tutti, giovani e anche meno giovani, con Levante, una voce importante della musica italiana, questa volta si è cimentata con la scrittura e questo cuore non mente, edito da Rizzoli. Subito dopo, alle 20 e 45 in piazza 20 settembre, ci sarà l'inaugurazione ufficiale del festival con le autorità locali e regionali. Poi alle 21 Antonio Di Bella, ex direttore di Re News, oggi corrispondente dagli Stati Uniti, con l'assedio, un libro che parla di politica americana, intervistato da Nicoletta Tamberlich dell'Ansa. Si va avanti alle 21 al Pincio con Davide Toffolo, alle 21 alla San Francesco con Luigi Manconi, intervistato da Marino Sinibaldi. E Marino Sinibaldi, alle ore 22 in piazza, chiude la giornata con la consegna del premio Andrea Barbato ad Akhmet Altan. Akhmet Altan è rimasto in Turchia e privo di passaporto, dopo essere stato a lungo in prigione. Lo riceverà Yasmin Kongar e la Kongar, che è una giornalista turca, una giornalista e una scrittrice turca, direttore di P24 e della Casa della Letteratura di Istanbul. di Istanbul, ecco appunto la Kongar dialogherà con Marino Sinibaldi e poi la premiazione insieme anche a Ivana Monti Barbato. È tutto per la prima giornata di festival.